Ma se non sento, non sii più forte, non ve ne pentirete. Ora, volete unirvi per favore a un coro? Io lo chiamo e voi rispondete. Che fa così? Pronti sulle mani forte? Branca, bracca, bracca! Leon, Leon, Leon! Nel nostro percorso c'è un grandissimo incontro, quello con Fabrizio, a lui dedicato questa mano. Grazie! C'è una donna che segna il grano, volta la carta si vede il villano Il villano che zappa la terra, volta la carta avviene la guerra Per la guerra non c'è che i soldati, abiti scatti, sono tutti scattati Angiolina cammina, cammina, con le sue scattate più Cara Michele è innamorata, volta la carta che non c'è più Cara Michele è innamorata, volta la carta che non c'è più C'è un bambino che sale un cancello, due cilenti e prima il doccello Tira 60 e non ha dolore, volta la carta c'è un fante di cuore Fante di cuore che è un foglio di pari, volta la carta che non c'è più Angiolina cammina, 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 cammina C'è un bambino che sale un cancello, due cilenti e prima il doccello Tira sassata e non ha dolore, volta la carta c'è un fante di cuore Fante di cuore che è un foglio di pari, volta la carta che non c'è più Angiolina cammina, 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 cammina C'è un bambino che sale un fante di cuore che è un fante di cuore che è un fante di cuore Fante di cuore che è un 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 fante di cuore 3, 2, 3, 4